Allora fammi un rà di riscaldamento. Rà! E non tenerlo. Buongiorno a tutti. In queste giornate un po' convulse abbiamo deciso di dedicare un po' di spazio alla didattica attraverso una serie di micro storie surreali da me create in tempi non sospetti intitolata la saga del giovin serpente. Cosa potete fare? Ascoltarla, possibilmente aglietarvi e provare a rispondere alla domanda che precede ciascun episodio. La saga consta di sei episodi ciascuno contenente regole specifiche che potrete verificare sulla dispensa in dotazione e quindi rispondere alla domanda che vi porrò ogni giorno da oggi martedì 3 marzo fino a domenica 7 marzo. Buon divertimento. La saga del giovin serpente. Prima puntata, martedì 3 marzo. Il ditongo ye apre sempre, ma qui ci sono tre parole che si comportano diversamente e una che si può pronunciare in entrambi i modi. Quali sono? fu ieri che Diego, da dietro una siepe, scorse di fieno coperto un brutto ateniese. Niente, disse all'osco straniero, ma solo un bicchiere di miele gli porse. Non senza pensiero lo beve d'unfiato. Gli diede un biglietto. Lo sguardo era schietto. Non chiedere niente di ieri o di oggi, sian dieci o sian tre, i biechi sovrani. Così stava scritto. Lieve era il tratto, in quel tiepido giorno, per Diego distratto. Il chierico, intanto, aveva, di nascosto sottratto, lo scritto incipiente del pur maldicente Jolin Serpente. La risposta domani in apertura della seconda puntata.